Fabio, oggi c'è un consiglio territoriale, cos'è? È il momento del bilancio di quello che si è fatto quest'anno? Sì, è il momento di un'analisi a consultivo delle attività di quest'anno e la programmazione per l'anno successivo. Al centro delle vicende ci sono le vertenze che in questo momento preoccupano il territorio. Una su tutte è la bonifica con la quale sembra finalmente si sia aperto il giusto dialogo col generale Arrigo e quindi uno spiraio di una possibilità effettiva che si realizzi la bonifica del sito. Parleremo del rilancio del porto di Crotone, che è il nostro volano di sviluppo, e poi delle vertenze. In ordine la Bramo Customer Care, la gestione dei rifiuti, del servizio idrico. Noi siamo convinti che bisogna cominciare a pensare a una idea di sviluppo, a un piano industriale per il territorio che ancora nei vari settori non c'è, perché spesso c'è un riciclo di quelle che sono le figure a capo del Consiglio di Amministrazione delle società. Quindi c'è necessità comunque da questa analisi di fare anche poi delle proposte, perché le istituzioni possano metterle in campo? Beh, le istituzioni intanto dovrebbero smettere di schivare il dialogo. Noi con la provincia non riusciamo ancora ad oggi a avere un confronto di merito sulle questioni, spesso c'è imbarazzo quando si affrontano le problematiche, abbiamo avuto difficoltà ad affrontare l'analisi della bozza del dimensionamento scolastico, tant'è che la cittadinanza non ha potuto partecipare alla condivisione di questo progetto, quindi a danno di famiglie, alunni e docenti. Deve esserci un confronto che non deve essere più uno slogan sulla concertazione, ma una reale discussione di merito dove bisogna avere l'umiltà di raccogliere i consigli e le proposte di tutti. Quindi insomma è un momento importante per la UIL ma anche per il nostro territorio? Sì, è un momento dove tutti siamo messi in discussione, il sindacato compreso, ma dove la politica deve cominciare a essere meno distratta, meno disattenta, soprattutto come l'è stata con la vicenda di Abramo, perché oggi in queste ore stiamo vivendo una questione drammatica, gli ex lavoratori dell'Abramo Customer Care subiscono una interruzione di una commessa di team che mette in discussione quasi 500 posti di lavoro. Questo accade per un'azione irresponsabile di Telecom, ma anche per una distrazione politica, un disinteresse, perché per la vendita dell'Abramo Customer Care non sono state mai messe in campo una serie di garanzie istituzionali che rendessero appetibile l'acquisto, come lo sgravio fiscale, lo sgravio contributivo, i fondi regionali per la formazione. Quindi è un pacchetto che eventuali potenziali imprenditori avrebbero dovuto acquistare a scatola chiusa. La UIL è vicino ai lavoratori del Abramo? Noi siamo vicini, la siamo sempre seguiti e in questo momento abbiamo già attivato la richiesta di incontro col Ministero dello Sviluppo Economico, col Presidente della Regione, dovrebbero saltare dalla sedia davanti a queste cose. Purtroppo ancora dopo due giorni dalla notizia, a parte le organizzazioni sindacali, la stampa che è sempre presente in queste vicende, la solidarietà del sindaco non c'è stata nient'altro.